Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui di nuovo su Black Ops 3 Scusatemi per l'attesa per quello che vi ho fatto aspettare Per farvi vedere un altro episodio di Black Ops 3 Sono andato un pochettino avanti, come potete vedere sono al primo prestigio Non stupitevi se non sto scalando le classifiche Non sto facendo chissà che cosa Non sto prestigiando come un maiale Però purtroppo non ho molto tempo Quindi già che sono al prestigio 1 Sto per arrivare al prestigio 2 è molto Figuriamoci che su Xbox One Non sono ancora arrivato neanche al primo prestigio Sto per arrivarci però Vorrei dedicarmi principalmente al PS4 E spero che il prima possibile riesca a comprarmi Uno scaffo della Playstation 4 Ne ho visto un paio Sono molto carini E' anche molto figo Decorarli Fare le varie colorazioni Niente ragazzi Devo dirvi una cosa Una cosa che purtroppo mi dispiace dire Devo dire che su Xbox One Ci sono giocatori veramente merdosi Nel senso che Purtroppo mi capita molto spesso di giocare su Xbox One Nonostante io abbia il controllo elite E riesco a fare quei giochini del cazzo Trick di merda Eccetera Mi trovo veramente gente Non solo che magari è connessionata Quel genere di connessioni potentissime Che magari io non avrò mai Fibre ottiche allucinanti Ma mi trovo gente Che continua a camperarsi Continua a nascondersi nell'erbetta Perché adesso come potete vedere Queste mappe sono leggermente I più grandi del solito Hanno varie ambientazioni Magari non lo so Una foresta tipo Redwood Ce ne sono vari ragazzi Ragazzi non so Comunque sia Molti stanno fermi E mentre su PS4 mi sono accorto Che molti pushano Se ne vanno in giro E fanno quello che vogliono Cioè ti affrontano a viso aperto Questa cosa mi dispiace un po' Purtroppo mi trovo in difficoltà Mi sono innervosito molto spesso Su Xbox One E ho dovuto abbandonare Molto spesso Microsoft per giocare Su Sony Su PS4 Perché? Perché trovavo queste problematiche Problematiche che non persistevano Per una parita Ma due, tre, quattro partite Mentre su PS4 Io riesco a giocare Molto più tranquillamente Nonostante Non abbia lo scaf E trovo gente Che magari è più competitiva Che con cui potete affrontarvi A faccia aperta Ah sì Avviso Face to face Il solito face to face Ragazzi Però raga Cosa devo dirvi? Posso dirvi una cosa Che io mi auguro Che il prima possibile Sono già da un anno Che ve lo dico Quasi due anni Mi sa che ve lo dico Che mi diano La fibra ottica Perché in questo caso Forse è anche questione Di connessione Su Xbox One Magari girano meglio Girano meglio i server Chi ha una connessione Più potente Tipo 30 MB 50 MB 100 MB 300 MB Mi apre il culo Perché la connessione Va meglio Mentre su Playstation 4 Magari i server Non sono buonissimi Non lo so ragazzi Io sto ipotizzando un qualcosa E riesco a giocarmela meglio Boh Ragazzi Comunque sia Io me la gioco Vorrei fare un bel Tutti i contenuti Come al solito Se riesco me ne faccio due E partiamo subito Allora Eccoci su Aquarium Allora io mi uso il Vesper Con la estazione rapida Calcio Caricatore rapido E caricatore aumentato Che è molto buona Cioè ragazzi Sono un po' arrugginito Scusatemi se Non vincerò magari Boh Vediamo Se riesco a giocarmela Vai 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 Vedo un po' Olè guante Uh via Sì credici Dio Credici proprio Ok ce n'è uno dietro Bastardo Eh ragazzi Purtroppo sono un po' arrugginito Ve l'ho detto Fidatevi di me Non è questione di Non saperci giocare Ma sono un bel po' arrugginito Ed è più o meno Due o tre giorni Che non ci gioco Quindi Volete capire La mia difficoltà Nel giocare Allora Andiamo qui dentro Non c'è nessuno Rifacciamo il giro E poi ce ne proseguiamo qui Andiamo 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 Via 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 Ecco i camperelli Ma vaffanculo Cazzo No ragazzo Pegiorando Purtroppo C'è gente che non gioca Che rimane ferma E fa fare kill Ad altre persone Via 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 Qui dentro scommetate Che c'è qualcuno Via Via Eh stronzetto Evita il campetto Sì 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 Bello ragazzi Bella sta cosa Bellissima Con quel cazzo di cuda La mia arma che c'ha Dando maggiore Più elevato No bastardo Questo è bravino Però mi piace E' fortino Si è giocata molto bene Anche se con il silenziatore Mi stiamo impostando Che mi ammazzo In questa maniera Ma vabbè Eh sti cazzi Pezza e merda 13 Ma qui No Caricato già E dai Ma non puoi Madonna Allora Via Ma vaffanculo Mi stanno ammazzando sempre Andiamo Via 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 Opla Via 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 Allora Vai Tutti giocano qui dentro Capito Sì Andiamo giocando principalmente Lì dentro Ne ho gente dietro Oh di stranze Assassinato Sì No cazzo Vabbè Dai dai Sì 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 L'importante E' crederci Tutti i camperelli Qui Abbiamo capito Che sono tutti Fermi In questa paleta Sì 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 Quanto come cazzo Se la giocano Ragazzi Anche qui Ogni tanto Vi capita Di trovare Queste partite E' cazzo Io mi chiedo Il divertimento Di giocare in questa maniera Sì Credici Sì Vai Allora Sicuramente Sono lì su Sì Sì No dietro Sì Da fu io Qui Ma vaffanculo Sempre dietro Andiamo Andiamo Uno campeonato qui Guardate Oh No Strano Almeno L'uavino Mi dice niente Non sa mai Andiamo E' sciogli B C'erano anche Allora i vesper Solo che sono silenziati Non fa giocare Col vesper silenziato Cioè E' efficace Perché non si fa sentire Però Per il resto Non serve a nulla Eh muori Stranza Via Aspetta un attimo Che mi devo curare Sono mezzo morto Magari Mi trovo qualcun altro Guardate Oh No 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 Strano Via 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 Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Bello La gente Che comincia Andarsene via Va bene Qui non c'è nessuno Vediamo se arriva qualcuno Qui Peccato giocano Molto fermo Mi sto anche Ma dove Bello Mi ha liquidato La grande Bastardo Bravo Mi hanno rotto Eh Non esagerare Cazzo Non esagerare Ora Via Sì 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 Credici Però ragazzi Mi stanno buttando giù Cazzo Ma perché Cazzo Li fai sparare A fianco a me Madonna Vai Guardalo Ma dai Che cazzo Tu ti affianca a me Sti stronzi Sono cose che fanno già È troppo il cazzo Stai qua Tipo Maddai Ma com'è cazzo Giochi la madonna Guardate come giocano Ragazzi Cioè fanno Sono il vomito Vi auguro Vi auguro sempre Di non trovare mai Gente del genere Io sono sfigato di turno Che quando faccio il video Giustamente Mi becco Gente del genere Via 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 Bravi Complimenti Poi Armi silenziate Fanno farsi Beccare Capito Sì Certo Dio 13 Sì Bravi Cazzo Poi non so neanche se fosse italiano Porca Eva Sì È shot B***h Non c'è Dai ultima Ultima Ma vaffanculo Vabbè ragazzi Ho vinto almeno Non ho quello Cacchio Sono riuscito a vincermi la partitella Con Ah ecco la mia ultima kill Ovviamente grazie alle cuffie Io sento anche i rumori degli altri E nada Perfetto Io direi di Fare cosa Aspetta un attimo Sì ma sei tranquillo zio Tranquillo Allora Un inchino ragazzi Un inchino Io direi di fare un bel inchino E niente ragazzi Noi ci vediamo alla prossima Anzi non la prossima Che cazzo La prossima sfida Prossimo tutti contro tutti Partiamo subito Eccoci allora Siamo su strong gold Allora Solita arma Vesperino 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 Bellina sta immagine Allora Sicuramente una a destra e una a sinistra Perché quella è ovvio ragazzi Se non partite così Non c'è divertimento Vai Uno qui No strano Uno qui Neanche Dietro di me Non c'è nessuno No non ci credo ragazzi Che strano Mo mi ammazzano Guardate Oh Uno due tre Vaffanculo il re Nessuno Neanche qui Lì dentro non c'è nessuno Andiamoci Sì zio Via 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 Vai L'avete visto Sì zio Credici Bastardo Guarda Quello è già fermo Lì Ok Ci diamo Dai Su 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 Ma non muore Mi ha anche shattato Cioè dai Che schifo La gente è così Ma facciamo il giro Lo inchiappettiamo Sì Brava Complimenti Ma come Come Bravo zio Sei il migliore Dai Uno No dai Cazzo Vabbè Mi si Ha shot Bish Stronzo Non ci credo ragazzi Che culo Che culo Ce l'ho fatta Invisible Invisible Ball Tata 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 Dai ma va a cagare D'uno da una parte Uno dall'altra Ma fate schifo Ragazzi Veramente Cioè questa gente Porca la madosca Non ho capito Perché cazzo Mi fanno spawnare Fianco allo spawn Nemico Bravi Me ne vado Ma questo mi ha shotato Va bene Va bene ragazzi Va bene Così ok Hai rotto il cazzo Di stare lì Ho brutto camper Di merda Porca madosca Che schifo La gente Così C'è Però Per così dire Per così dire Hai ragione Ma co Come Scusami Spiegami Come cazzo Hai fatto Uccidermi Con una lama Del genere Ed ero in aria Ma vabbè E muori Obeso Cazzo di obeso Mamma mia Io quando mi trovo Gente così Ragazzi Non so che dire Ma muori Coglione Va Camper di merda Hai rotto il cazzo Ma muori Ma muori Ma muori Ma vaffanculo Ho finito le armi Chiamai il cer- Ah no il cerbro non ce lo fa a cagare Basta Basta Avete rotto il cazzo di camperare Su Ma giochate poco poco bene Madonna Amori Amori Via 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 Non so già Non avevo dubbi Non avevo dubbi Però no ragazzi Io vi faccio vedere Come si gioca Almeno qui Perché Io riesco a cavarmela Per modo di dire Che sti cazzo di camper E shot Bish Tronzo Invisible No Mi ha beccato in testa Bastardo Però vabbè Cioè stiamo giocando bene Ragazzi No No Cazzo Mi ha rotto il cazzo Ci sono già dei camper di merda Ma Ma il cazzo giocate Ragazzi Cioè se me la giocassi io così Mamma mia Ma vaffanculo Che camperoni Che camperoni ragazzi Vabbè Purtroppo capita Trovate anche la gente in questa maniera Che se la gioca Guardate come cazzo Se la gioca Fissi in questi punti Avete visto All'inizio Che erano indietro Quel camioncino E adesso Era in questo punto A girare Con questa macchina E quel fondo La parte più profonda Della mappa Vabbè Che cazzo Si perde Si vince Si perde Però io Faccio sempre il minchino Perché giustamente Merita la vittoria Un giocatore così Merita di vincere Dopotutto Ci vogliono 30 kill Per vincere E lui ne ha fatte Io ne ho fatte 27 Ci ho provato a recuperarlo Non ce l'ho fatta E vabbè Niente ragazzi Io ovviamente Spero di avervi intrattenuto al meglio Con queste due partite Di Call of Duty Black Ops 3 Ovviamente Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente l'avete apprezzato Noi ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga Noi ci vediamo al prossima